Ecco, si vede? Buongiorno consiglieri, seduta del giorno 15, aprile 2021, ore 12.03, secondo appello. Teresi assente, Aiello assente, Altadonna assente, Cavaliere assente, Igesù assente, Figuccia assente, Losardo presente, Lucido assente, Palazzo assente, Stabile assente, Presidente, nove assenti e un presente. Benissimo, quindi non siamo in numero legale, quindi la seduta è rinviata a domani appunto per assenza del numero legale. Buongiorno a tutti e grazie per la collaborazione. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.